Sono delle iniziative benemerite del Rotary che dimostra ancora una volta un'eccezionale sensibilità ai temi dell'ambiente ed un'operatività inimmaginabile in altre circostanze per quanto riguarda il suo attivismo civico. I Rotary di Salerno offrono alla città di Salerno quest'altra opportunità. Ora raggiungiamo otto impianti per la raccolta delle microplastiche, sono sei che si aggiungono oggi ai due già operativi, distribuiti quattro qui e quattro al masuccio. Insomma credo che sia un contributo non semplicemente simbolico, anche simbolico, ma non semplicemente simbolico per la tenuta e la pulizia dei nostri mari.